10 5 4 3 2 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 17 16 15 14 15 15 15 16 17 17 17 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.